Che capelli madonna fa niente ma chi se ne frega c'è molto di peggio particolari Bella a tutti ragazzi benvenuti a questo nuovo video io sono quello coi capelli e lui è quello con i baffi Siamo col green screen male impostato adesso ho messo meglio no però chi se ne frega perché abbiamo oggi una reaction di youtuber che invece lo sanno fare gli youtuber Non che sanno mettere un green screen storto così porca putt No niente ok dai ce le faccio siamo qua per fare la reaction ai nostri amici di space valley perché un mese No due 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 mesi due mesi fa siamo andati a bologna da questi ragazzi magnifici Volevo vedere il video montato siamo finalmente giunti al giorno in cui è uscito il video io sono molto curioso Anche perché giampiero era con me quindi io ho visto tutto da spettatore adesso me lo sto rivivendo da spettatore ma montato Montato la bellezza il montaggio dai 3 2 1 let's go Spirciato e c'è una delle manche per prenotarsi che obiettivamente uscirà del sangue bello bellissimo senza indugio allora andiamo a presentare l'ospite Quando hanno fatto sta roba mi stavo cagando nelle mutande perché io mentre lo stavo facendo sta roba io stavo sentendo tutto e vedendo tutto Quando hanno parlato di sangue io ero già stavo già morendo lui era lì che mi rialmava Vabbè io ridevo mentre andiamo avanti Un'ospite da far sanguinare speriamo E' un bel inizio per farvi del mare Sicuramente adesso avrà voglia di entrare Signore e signori oggi è qui con noi Fabiii Non eri come Ancora pensavo ci posso ripetarli Esatto io stavo proprio per dirti sta roba Tutto spaventato che entri E invece niente E' ancora lo youtuber con più iscritti d'italia? Attualmente si Attualmente Chi lo sa Però c'è un signore che potrebbe però Sì 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 Però ancora no Insomma vediamo Ancora sono ancora Tra 5 minuti no però ancora si Riesci a rispondere Prima manche Ti piace giocare Sono le meppe Non c'è molto spesso Abbiamo delle bacinelle piene di cacca davanti Hai ribaltato una cacca Si fa niente Beh io voglio capire chi ha cercato sta roba su Amazon Che l'hanno comprate ste cose Cos'hanno cercato cacche da pesca Allora la cosa che mi ha fatto stupire tantissimo di loro E' appunto il gran lavoro che c'è dietro Cioè il pizzo Una persona che è andata su Amazon E' comprato le cose Quella che ha avuto l'idea Bellissimo Ragazzi spesso Valle sono avanti Assurdi Noi in questa reaction la stiamo facendo in 5 minuti Così E il video dura 22 No assurdo Andiamo Non lo so Però le pesco lo stesso Che poi Che poi tra l'altro Io mi ricordo che qua Tutti quanti Quando uno faceva la domanda Poi uno per prenotarsi faceva Anche se non la sapeva Perché tanto era talmente difficile Guarda guarda L'hai presa con la mano? E come faccio a toglierla dalla canna? Ma se io l'ho presa Ah ecco Ma posso toccarla per toglierla? No ragazzi Qua ci vuole un ingegnere Oh ecco No no 4 Esatto Era difficilissimo Guarda che bravo Guarda Io incredibile Incredibile Io pesco le m***e come niente Nessuno Guarda guarda C'è dire che è lì Che non sta caffendo Cioè la tua più la sua Più quella di Cesare Ma 4 Ma scattevi 4 acceso No bro È ristracca 2005 No Si Ma come è 2005? Eh si vedi che non la sapevi manco tu Ma non è 2005 Tu cosa avresti detto? 2008 Eh no Il 2009 2008 La vocazione del 2005 Osto 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 Cosa sta Ma La mia preferita ragazzi Questa è finale Guardate Guardate ragazzi Che fa Cesare? Esatto Bellissimo Ma lei lo completamente dimenticava Che poi non funziona Perché io guardavo Nelson E faceva sta cosa E se ne scappava Io qua volevo girare attorno a Cesare Ma che fai tu? Poi sei impazzito Andiamo Qua peccato ragazzi Perché sta per succedere Una cosa che non è stata ripresa Adesso vede No Forse si vede No Si vede Si vede Si sicuro Perché ora impazzisci Adesso faccio una cosa Che non avrei mai pensato Ma infatti quando l'ha fatto Ho detto Eccolo Ecco Però Non si vede Non si può vedere Che non si poteva vedere Io Sono uscito Esatto E ho iniziato a correre Intorno al quartiere Cioè proprio Io sono uscito dagli studi Forse nel mio vlog Si intravece Eh però Non si vede Nel video di Space Valley E quello è il problema Comunque ragazzi Immaginate Me e Che corriamo per strada Io per riprenderlo E lui che voleva fare Sta roba del contapassi Io ero lì Stavo in giro a poco con passi Ma come canta fai? Proviamo a telefonare A vero Qualcuno ha detto Qualcuno ha detto Proviamo a telefonare Sì 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 Telefonare Grazie Vabbè È tornato È tornato È tornato Bellissimo Lo youtuber italiano Qua era facile Marzia Bisognini Che è successo? È giusto È giusto Grande Bellissimo Cos'è questa Che non è Ah no Vabbè Questa era impossibile Questa era quella Che non è No Era Io qua Veramente Cesare era pronto Comunque Sì sì Lui è normale Lui è normale Qualsiasi cosa Mia nonna è una sarta E quindi Cosa è niente Eh C'ha le schive Le schive L'altro Questa cosa Aspetta Aspetta Stai qua Aspetta Allora vedere queste cose Lo fa diventare Attivo come lo era nel video Quindi Mi sa che sta facendo Io come cachet Mi sono fregato Il coso Ma loro lo sanno Eh no Non sono stato pagato Però ho fregato questo Perché mi serviva per la tastiera Quindi io questo Me lo so portato poi a casa Allora non lo sanno Questo è stato il mio cachet Per il video Airduster Sprite Che magari a loro serviva Anche però Ma normale Se la inclini Carichiamoci un po' Perché siamo tutti Ma veramente Mi ricordavo sta roba È fighissimo C'è veramente Aspetta ma perché Qual era il trick Eh non lo so Adesso il basso No Non so io Non ho studiato Che male Ma Nelson Uno Bravissimo Nelson Non mi ricordavo sta roba No si si ha fatto Quanto vuole fare Lo deve fare E tre Bravissimo Bravissimo E io l'avrei sbagliata sta roba Meno male che non è Non ci hai mai provato Però sta roba Ma non ci No no ci ho provato Ho capito che non è una cosa Fidati E quindi ho disturbato Ma poi non avrei azzeccato la domanda La risposta Un bel like Io avrei detto La intro e la outro Eh pure io inizialmente Quindi è sbagliatissimo Cioè meno male Meno male che ha vinto Nelson Madonna Abbiamo davanti Un vaso pieno di cactus Dei grandi Che fanno delle challenge Del genere In Italia Questa che state per vedere È la challenge Più bella Che voi vedrete mai Nella vostra vita C'è proprio vita Incredibile Ragazzi Ragazzi Lorenzo Che si fa del male Non avete idea Di quanto è in questo momento Guardami Sto cagando sotto Non vuoi farlo in realtà Ma però è che io c'è un po' Un trauma dei cactus Perché io quando ero piccolo Mia nonna ne aveva uno E andavo lì con le male Ero un po' stupido Infatti si vede Però andavo lì Aspetta la domanda non ho letta Lui o colei Che frequenta abitualmente Un canale youtube Ok Ok vabbè Questa è il Aia che male Aia che No no ragazzi Facciamo un altro Eccola No mi faceva malissimo Ma fallo tu Non ho capito Ma fa malissimo Ma si ma c'è un po' di sangue No 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 E infatti Iniziavamo a buttare i fiammiferi A cazzo C'è proprio Ah si sono spenti Eh tu non so Ragazzi devi accendere tutte Mi sono usciutato Io le ho scese tutte Dei c'è tutte Dei spendile Ma si guida Cesare è un fenomeno Soffia Soffia Devo rispondere Rispondi Fan No No Verun Sì 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 Ok spegnete Spegnete Ah ma l'avevo vinta io questa Come si chiama l'utente che Che frequenta youtube Abitualmente un canale youtube Sì una persona Esatto Iscritto Esatto Adesso che non me lo ricordavo Dello giuro non me lo ricordavo Adesso un attimo C'è dobbiamo Va bene No Fammi rivederti Bellissimo Tocca quella Guarda guarda il mio sguardo Di terrore Non ancora Non ancora Quella è l'ultima Adesso un attimo Va bene Ma che frame Ma che frame Poi in mano c'è la fiamma Ma che cosa Hai il boss final di Dark Souls Uno Bellissimo Poi off screen mi hanno tirato un petardo Con ste patate Cosa dobbiamo fare Dovete sbucciare la patata E si prenota Ah madonna Il fatto è che io Cioè io avevo Oltre alla manualità Da cane Guarda guarda no Ma io avevo proprio paura Di tagliarmi Cioè era orribile Guarda guardati No ma sono inguardabile Guarda Cesare Cesare è incredibile Lui è proprio un potere Super potere Guarda guarda Si poi si è scoperta sta roba Il suo potere di cesta Visti che io abbia mai visto su youtube Incredibile ragazzi Non so fare niente Veramente Veramente Ridicolo Ma io non so capace a fare ste robe Cioè ti giuro Mi sono impegnatissimo Era veramente difficile Ragazzi questo è il mio massimo Sì sì Non sono mai andato oltre quella Madonna Bene E qual è la domanda? Per piacere agli inserzionisti Sì E lui non lo sa questo Come dovrebbe essere un canale di youtube Io sguzzo perché tu se ne non lo sa Devi essere No è una parola Due parole Due parole Quello che non sei tu Cioè sarei Family friendly Esatto Bravo Cioè mi ricordavo Invece da sbagliare No dai Perché sarei sbagliato L'ultima questa Questa è storica Hai mai fatto il fallotto Abbiamo un acciarino Che è tipo le cose Un acciarino Guarda Tu con due dita Però io non ho mai visto Quest'affare con in mano Bravo Qua li hai risvegliato una Sì però E comunque è impossibile Ragazzi è impossibile Io ve lo giuro La patata era più facile Cioè veramente Accendere il poco È una bollina Ma perché E tipo devi prendere Con il minimo Ma Cioè quello è un fenomeno No dai È impossibile Cioè Cesare è veramente Un real man Cesare è una Nelson Ah ho perso io Hai perso te Completamente Ha perso Nelson Sopra Nelson Sì E non solo L'unico punto che ha fatto Dei ringraziare sua nonna È vero È paradossale Incredibile Ah ma c'è Ma c'è il salotto Nella valle È già uscito E quando esce E quindi esce prima questo video No ragazzi Allora boh Non mi dovrei vedere anche quello Che è bellissimo Sì 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 Ma prima lo vedevo che girava E si intascavi con le adoro Ragazzi Io ho intascavo un sacco di robe Ragazzi È schifo Ho rubato Ho rubato Senza nite Ho rubato anche queste Senza assurdo nite Non invitate Favigio a casa vostra Cosa diciamo a fine video? Ah io lo devo sapere io Adesso lo so Vai Adesso lo so E infatti Adesso Lorenzo Rimostranze No ricorrenze Rimostranze Ma cosa è che dicono? Riverenze Riverenze Porco Rimostranze Ma esiste Non lo so Esiste Maledizio Riverenze E vai l'italiano Non lo so Non sono studiato Ciao ragazzi Chiudi un tuo video Dai E non ho un telecomando Non si può fare niente Questo video durerà una vita Perché non si può chiudere Quindi siamo qua Siamo qua Basta È stato molto difficile Arriverenze 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 Andiamo a pranzo noi Arriverenze Aspetta Ragazzi come Chiudono i video di Space Valley Ragazzi Salotto nella valle Uscirà tra poco Non vedo la rivedere Anche quello Che dire Io mi sono divertito Spero anche tu Cioè Per me è stata proprio Bellissima esperienza Veramente una delle migliori Cioè Collaborazioni mai fatte Veramente Dei ragazzi incredibili Passate la canale di Space Valley Ragazzi E nulla Speriamo che mi invitino Alla prossima Senza il cactus Però Pure io voglio riandarci Andiamoci Niente ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Bellissimo per la parte nostra Perché vabbè Ehm C'eravamo noi C'eravamo nel senso Spero che il video vi sia piaciuto Un bacione Un bacione ai ragazzi di Space Valley E noi come sempre Ci vediamo Allo prossimo video Arriverenze Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti